Disinquinamento del fiume Pescara, sindaco Alessandrini, già diverse le operazioni messe in campo, ma lei prima parlava della collaborazione che ci deve essere tra comune, provincia, regione, perché il fiume Pescara attraversa non solo la provincia di Pescara, ma anche quelle di Chieti e l'Aquila. Nello specifico il comune di Pescara oggi presenta i frutti del suo intenso lavoro di queste settimane. Volto ad una prima mappatura degli scarichi civili, stiamo acquisendo dati per divenire ad una mappatura anche degli scarichi industriali perché hanno un rilevo e abbiamo anche individuato due condotte, due bersagli su cui appuntare le nostre attenzioni. Da un lato, via Gran Sasso, in prossimità cioè del Ponte Nuovo, c'è una condotta che scarica direttamente al mare e lì siamo in grado, abbiamo già svolto delle conferenze di servizi con ACA, di riallacciarla ai lavori che dovranno proseguire del DK15, eliminando così una fonte di inquinamento. Più articolato invece il discorso che attiene a Via Raiale, per capirci il luogo dove insieme al Presidente della Regione qualche giorno fa si è mandati a fare un'azione evidentemente dimostrativa di tappare uno scarico. Il punto naturalmente è la piena consapevolezza che in quella zona non ci sono le fogne, per questo esse scaricano a mare. Abbiamo attivato, l'ha convocata il Sindaco di Pescara, una conferenza di servizi con tutti gli attori istituzionali, e non ultimo il nucleo industriale, per la realizzazione di una fognatura che certamente è destinata ad essere molto importante perché abbatte quei valori negativi che l'acqua del mare, del fiume, poi finisce per avere nell'acqua del mare. Ad oggi quante possibilità ci sono di evitare i divieti di balneazione nella prossima stagione estiva? Io non sono un indovino, quello che so è che bisogna lavorare ogni giorno prendendo a bersaglio più obiettivi possibili, è una lotta che noi facciamo con determinazione, una lotta che peraltro non ha fatto nessuno perché in vent'anni si è molto parlato di inquinamento, molto poco, forse poco, però azioni concrete ben poche.